Anche per te seconda giornata di variazione di Milancio, abbiamo parlato probabilmente di temi anche a Tecari, visto che insomma Pavini è un'area dove sicuramente l'agricoltura è più presente che non nell'area triestina e nell'area giuliana. Cosa ti sta sembrando questa seconda giornata? Ma procediamo su un lavoro che si sofferma su temi come gli OGM che in realtà non sono proprio centrati su materie economiche, forse perché ci sono così pochi soldi che dobbiamo concentrarci anche su queste materie, si tratta di un procedere, però si nota già dal dibattito che lo sguardo ormai posto sulla prossima finanziaria dove ci saranno sia ovviamente le risorse adeguate ma soprattutto una visione vera di questa nuova maggioranza regionale.